ma come si è comportato io non c'ho parole guarda non c'ho parole ma riempito dei cazzotti calci poi dice mi fa male il gomito però con quel gomito darei i gomitati e allora com'è come lo spieghi ma sei un delinquente sei un delinquente leva le mani davanti tu sei pericoloso si ha scoperto chi ha fatto la fiscia no poi dicono eh quell'anziano gli danno fastidio ma chi ha urinato chi ha urinato eh l'ha scoperto ma quello c'era in continente della prostata eh si purtroppo che fa metteva il pannolone e l'ha fatta dove si è trovata mamma mia oh che sottopalla anche i popoli sono tornati che brugno sono tornata a fiorire i popoli destra e sinistra porca miseria che botta ci resta questo guarda su quel posto io so come riccio non mi impiccio ma voi perché mi impicciate sui miei ma chi ma chi mentre voi vedere ma man snake voi vedere